Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video di Riki3 Oggi siamo su Clash Royale Oggi faremo un piccolo cesto opening E andremo ad aprire un baule Un baule magico Magari anche a fare una battaglia Va bene Ok Allora, apriamo un baule d'oro Una valchiria Undici mascalzoni Io mi vado a potenziare i mascalzoni Perché ce l'ho nel deck Parire barbarico No, non mi serve Prendo dieci gemme gratis Ok Ora vado a fare una battaglia Scusate ma Spero di non perderla Spero anche di tristellare Ma dai ma subito Vabbè Butto la scintilla Sono molto sonnato Perché è stata una giornata molto lunga Butto i mascalzoni Che a livello 4 Che a livello 4 Zappa Ok La principessa va giù Anche la mia torre va giù Dai mini pecca vai Vai E me l'ha lasciato andare Questo va bene Questo va bene Ributto i mascalzoni Ok Non fanno niente Ehm No 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 Perché il drago infernale Allora lo butto anch'io Butto la strega Ma Ma Com'è possibile Si Non è che il drago Che sta prima in campo Fa più danno Credo di no Fino a poco fa Credevo di no Mi devo ricredere Si Uffa Uffa No dai Butto la strega elettrica A meno stop H2 Oh Cavolo Cavolo No No Non può finire Superlimentari No Non può finire Superlimentari Lo so anch'io Dai Si Ho vinto Ho vinto Va bene Ho vinto Ho vinto Prima di perdere il video Non possiamo aprire quel baule Apro questo qua Subito magico Così Mille di oro 8 baule di ossa 10 frecce 3 stregoni 3 torri infernali 69 cosi 17 formaci E 4 furie Niente Ciao a tutti Grazie a tutti